Immaginate soltanto per un attimo voi stessi al centro di questa storia, voi comodamente seduti nel vostro salotto tranquilli, un attimo di serenità e vi immergete nel mondo dell'arte. Questo libro contiene tutta la mia esperienza di venditore, tutti i personaggi che ho conosciuto nel mondo dell'arte, come si formula il prezzo di un artista, quello che succede dietro le quinte, quello che voi non vedete mai e che nessun mercante vi ha mai raccontato. Servirà ad arricchire la vostra collezione e a costruirla per il meglio. Adesso parlo io, compratelo. Lo potete comprare nelle migliori librerie, ma io vi consiglio di prenderlo da Amazon. In 24 ore ce l'avete a casa e state comodamente seduti sul vostro salotto. Grazie a tutti. Carissimi amici buona giornata. Buona giornata. Continuano le nostre iniziative di divulgazione e vi favoriamo nella maniera più completa, dandovi la possibilità di avvicinarvi ad opere d'arte di altissimo livello. Guardate quell'opera di Pizzi Cannella che è alle mie spalle, letteralmente straordinaria, farebbe impazzire i cultori dell'arte in generale e i critici e i mercanti più raffinati, quelli che con orgoglio, con una certa spocchia, vogliono promuovere la cultura italiana in tutto il mondo. E i nomi sono quelli importanti. Oggi vi faccio vedere delle opere molto importanti, molto significative, ma al tempo stesso le popolarizzo. Le popolarizzo perché le popolarizzo? Perché ve le propongo in gara libera. Non la voglio chiamare Asta, perché chiamarla Asta significherebbe imporre i diritti d'Asta, quindi il 24%, il 25% di aumento sulle aggiudicazioni, eccetera. No, quindi la chiamo gara, la chiamo gara libera. Voi potete fare le vostre proposte economiche sulle opere di grande importanza, di grande qualità, che ho la fortuna di farvi vedere. Avete visto un pizzicannella enorme, un'opera di Schipano di quelle che oggi vogliono tutti, una tela computerizzata storica di Mario Schipano, ma poi ci sono delle cose di una bellezza straordinaria. C'è un Mambo incredibile al numero 9, c'è un Ceroli fantastico al numero 6, c'è un'opera di quelle vere che adoro di Crippa al numero 5. Poi addirittura ce ne andiamo al MoMA, addirittura oggi siamo estremamente sofisticati. Guardate che cos'è questa straordinaria composizione di Domenico Bianchi, cioè quelle opere che sono arrivate al MoMA, quelle opere che la Tecci ha presentato a Castel Sant'Elmo con Achille Bonito-Liva, insieme alle opere più clamorose di Mambo. Quindi un artista assolutamente internazionale, un artista assolutamente clamoroso. Ma la cosa interessante, ma la cosa importante è che tutte le opere oggi vi verranno proposte in gara libera, cioè non ci sono vincoli di prezzo. L'unica difesa da parte dei committenti, e questo lo spiego sempre e cerco di farvelo capire, ho bisogno per cominciare la gara almeno di tre concorrenti diversi. Perché? Perché naturalmente, insisto sul termine diversi, perché naturalmente tre interessati all'opera propongono la possibilità di una gara. Se l'offerta proviene dalla stessa fonte, cioè se mi telefonate voi e mi fate un'offerta, poi la seconda offerta me la fa vostra moglie e la terza offerta me la fa la suocera, capite benissimo che non la posso considerare una gara, questo è ovvio. Quindi al centralino saranno particolarmente attenti sulla provenienza delle offerte. Poi voglio farvi vedere una cosa. Quando vi parlo di qualità, avete visto sul commercio, in commercio, questo è un grande artista. Sciacca, Antonio Sciacca, è uno dei più grandi pittori di figurazione della contemporaneità. Solo che ha un atelier. Ci sono gli Sciacca pensati e dipinti da lui, Antonio Sciacca, persona che io conosco da 40 anni, 50 anni, è una persona straordinaria. Quindi ci sono i quadri dipinti da lui e i quadri dipinti dai suoi collaboratori, che sono ben lontani dalla qualità delle opere autografe dell'artista. Ma questo ve l'ho detto per decine e decine di pittori. Un conto è schifano autografo, un conto è schifano d'atelier, un conto è crippa strepitoso, un conto è crippa d'atelier, un conto è turcato autografo e un conto sono i turcatini. Quindi ve l'ho detto un milione di volte. Chi giudica i quadri a metro quadrato come se fossero piastrelle? Il quadro non è una piastrella, un quadro piccolo così può essere un capolavoro e un quadro enorme può essere una schifezza emerita. Ma dello stesso pittore, perché anche i pittori sono esseri umani. Se uno dipinge il giorno che c'ha mal di pancia, non è che il quadro gli viene particolarmente bene. Tu prendi i Raffaello, non sono tutti allo stesso livello. Van Gogh non è che ha dipinto 1500 notti stellate, ha dipinto anche dei quadri più modesti, molto più modesti della notte stellata. Ma non ci vuole un genio per capire questo, no? Mi sembra abbastanza normale. Quindi chi vuole vendere i quadri a metro quadrato vada a vendere le piastrelle. Quelle le puoi vendere a metro quadrato secondo la qualità. Ma è ovvio, è banale. Lo vedi sciacca New York? Lo vedi sciacca le opere per le mostre internazionali? Mostre di Berlino, mostre ad Amsterdam, mostre ad New York? Cioè questo è lo sciacca da 10.000 euro. Poi c'è lo sciacca da 500 euro, da 1.000 euro, che è la divulgazione dell'opera di sciacca, fatta dai suoi collaboratori, fatta dalla sua bottega. Capite? Questo per darvi un esempio, per farvi capire. Guardate che razza di quadri è capace di fare lui e guardate quelli che escono dai suoi collaboratori. Bene, Maria buongiorno. Don Gabriele che ha fatto? Buongiorno a lei, dottor Boni. È qui, è qui. È con noi oggi. Sempre presente di domenica. È sempre la domenica. Meno male. Specialmente quando ci sono queste manifestazioni. Allora, cosa faccio? Non vi rubo tempo. Vi faccio vedere molto velocemente tutte le opere e vi esorto ad essere molto solleciti nelle offerte perché voglio subito entrare in gara assegnarvi le opere a prezzi straordinari. Ci tengo a dire un'altra cosa, i prezzi che raggiungeremo si intendono per opere con pagamento a vista, cioè con pagamento immediato. Possiamo accettare al massimo una dilazione entro i 90 giorni. Questo ve lo voglio dire perché contrariamente alle nostre... Poi se usate la finanziaria invece potete pagare anche in 5 anni. Non è così? Se usate la finanziaria potete pagare anche in 1, 2, 3, 4, 5 anni. Ma per quelli che sono gli accordi, chiamiamoli così, privati, al di fuori della finanziaria, oggi è una di quelle trasmissioni in cui vi chiediamo il pagamento o a vista, al massimo con una soluzione che si chiude nei 90 giorni. Quindi questo sia ben chiaro. Allora, cominciamo con un gioiellino di Luca Linari, Paesaggio chiave, opera del 97 di Luca Linari, è un 40 per 60 delizioso. Io vi dico il prezzo di mercato, il prezzo di mercato è 3.500-4.000 euro, gara libera, gara libera, fate le vostre offerte. O, numero due, c'è un'opera molto particolare di Rabbarama, perché è un pezzo unico, importante, è una scultura in gomma e pigmenti colorati, è una delle opere storiche di Rabbarama, vale un sacco di soldi, un Rabbarama così sono 4.000-5.000 euro, opera da sogno. Questo è il numero due di Rabbarama. Poi al numero tre ce l'andiamo subito al MoMA di New York, ce l'andiamo subito nelle più grandi mostre internazionali. Questa è una strepitosa opera di Domenico Bianchi del 2007, le sue opere più famose, quelle dove c'è proprio la raccolta di materiali diversi, infatti è olio e cera su tela, opera storica di Domenico Bianchi, tant'è vero che è pubblicata a pagina 32 di Le Prime Luci una delle pubblicazioni storiche di Domenico Bianchi. Quanto vale? Quanto vale? Vai dai mercanti che trattano Domenico Bianchi un 80 per 60 così, vi chiedono 25.000 euro. un 80 per 60 così il prezzo di Domenico Bianchi è da 20 a 25.000 euro. Opera pubblicata, opera pubblicata, opera preziosa. Non perdetela, queste sono le opere da alto collezionismo. Poi al numero quattro c'è uno di quegli oli che adoro, il mitico verso del colore del 2002, un 80 per 80 di Ennio Finzi. Questo è un grandissimo pittore, anziano, straordinario, un pittore che coniuga la pittura con la musica ed è veramente un artista di qualità straordinaria. opera del genere 3.000-3.500 euro, Ennio Finzi. Poi al numero 5 un'opera esplosiva di Roberto Crippa. Siamo nel 1971, sono i sugheri, le carte, le veline. è un 100 per 80 prezioso di grande qualità di Roberto Crippa, le opere vere, le opere storiche di Roberto Crippa. Quanto vale? Minimo, 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 10.000-11.000 euro sono le opere storiche, le opere vere di Roberto Crippa. Poi al numero 6 siamo nel 1970, profili e squadre, multiplo in balza di Mario Cegoli, provenienza Galleria dei Foscherari, tiratura 90 esemplari, è il diciannovesimo. È il diciannovesimo, inutile dire tiratura completamente esaurita di Mario Cegoli, a buttarlo via, a 3.500, ma proprio a dire lo regalo, proprio a dire lo butto via, opera preziosa. Poi, una composizione sacra di Alfredo Rapetti, le opere più belle, le opere più significative di questo stupendo artista, 80 per 60, vale tanti soldini, diciamo 2.000-2.500, qui siamo proprio al minimo. Poi, una delle gemme di Gastone Bigi, la mitica Vetulias, sono i mitici fiori di Gastone Bigi, 25 per 20, questa è pubblicata sul catalogo ragionato dei dipinti, tomo secondo con la partecipazione di Carlo Arturo Quintavalle e Gloria Bianchino, pubblicato a pagina 955. queste opere di Bigi che stanno risalendo, voi sapete queste opere che erano arrivate a 8.000-9.000 euro, ne ho vendute tantissime io a 8.000 euro, poi c'è stata la lunga attesa della pubblicazione sul catalogo generale di Quintavalle, per cui per 7 anni Bigi non è stato presente sul mercato e voi sapete che oggi una non presenza implica una diminuzione del prezzo ma adesso dopo la pubblicazione del catalogo generale Bigi sta risalendo a livello internazionale. Oggi comprate Bigi meravigliosamente bene, non perdetela, non perdetela, oltretutto pubblicata. Poi sempre pubblicato, questo è pubblicato nel libro nei pressi dell'origine, è un 100x120 di Renato Mambo o su Renato Mambo ve ne parlo con continuità, sapete perfettamente cosa significa oltre il muro una delle opere di grandi dimensioni pubblicata sono le opere strepitose di quest'artista oggi a buttarla via a 28.000 30.000 questo è il prezzo di un'opera di Mambo così ma vi dico sempre quando vi presento Mambo che Mambo appena comincerà l'operazione economica su Mambo che ancora non è cominciata costerà uno degli artisti italiani più pagati della storia modigliani compreso quindi fate attenzione non perdete le opere di Mambo tanto meno quelle storiche quelle pubblicate vedo che già state facendo delle proposte al centralino quindi continuate a fare le proposte così entriamo velocemente in gara vi ho fatto vedere due opere di Sciacca facendovi capire la differenza enorme tra Sciacca e Sciacca questa suggestione dipinta 20 anni fa opera storica di Sciacca quando Sciacca è così questa è un'opera un metro per un metro ti chiede 10 mila euro al quadro e questa è addirittura un'opera storica un'opera che viene dalle mostre un'opera pubblicata 130 per 90 non apprezzo non apprezzo sono le cose che lui faceva per le grandi mostre 10 mila 12 mila opera preziosa di Antonio Sciacca poi un'opera strepitosa di un metro e 90 per un metro e 30 di Piero Pizzi Cannella parliamo di uno dei più importanti artisti italiani nel mondo quanto vale un'opera di Pizzi Cannella così 40 45 questi sono i prezzi questi sono i prezzi opera storica opera del 1985 tra le cose più belle in assoluto di Piero Pizzi Cannella vale una montagna di soldi e poi Sua Maestà Mario Schifano un 100% un acquario opera registrata presso l'archivio Mario Schifano pubblicata sul catalogo addirittura pubblicata nell'83 nel gennaio dell'83 quindi opera storica di Mario Schifano di Mario Schifano sapete perfettamente che c'è la corsa alle opere di Mario Schifano i prezzi stanno salendo in maniera vertiginosa quello che vi dico da sempre ve lo dico dal 1958 che Mario Schifano era il più grande pittore di tocco del mondo si sta verificando e Mario Schifano sta arrivando ai prezzi internazionali poi tela computerizzata con ritocco in acrilico opera di un metro per un metro e quaranta registrata presso la fondazione Mario Schifano nel 2003 opera pubblicata sul catalogo dell'Università di Genova a pagina 522 e voi sapete che io adoro Mario Schifano vi dico da sempre comprate le opere di Mario Schifano e vi dico da sempre che le opere tecnologiche quindi le telecomputerizzate come le mitiche emulsioni dell'inizio degli anni settanta diventeranno nel secolo che stiamo vivendo più ambite più costose delle opere d'olio oggi è il contrario le opere d'olio le pagate di più ma nel giro dei prossimi cinque anni tutta la produzione tecnologica le emulsioni e le telecomputerizzate di Mario Schifano costeranno più degli oli ricordatevelo ho poi al numero 15 un'opera straordinaria gli amori impossibili di Marta Mezzinska un'artista che sta diventando celeberrima a livello museale internazionale opera 100% quindi minimo 4.000 euro minimo 4.000 euro e poi una gemma di Bansky un'opera del 2015 graffiti stencil su cartone provenienza questi sono 100 esemplari questo è il 47esimo sono tutte opere registrate sono le opere Bansky lo sapete in questo momento c'è la ricerca assoluta è l'artista più collezionato al mondo oggi oggi è l'artista più collezionato al mondo opera numero 16 e poi dall'attualità di Bansky passiamo alla storia con una scultura in ceramica questa donna al sole del 1954 di Leoncillo e qui entriamo nella storia della scultura nella storia della ceramica Leoncillo guardate le aste 50.000 60.000 euro pezzo introvabile pezzo da grande collezione opera da urlo di Leoncillo Leonardi qui dovrei chiedervi minimo 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 35.000 euro minimo pensate cosa significa oggi mettere in gara libera un'opera di Leoncillo ne dovrebbero parlare tutti i giornali d'Italia poi al numero 18 altro artista di cui oggi si parla a livello internazionale un'opera preziosa 60 per 80 legata ai ricordi di anno palosuo pubblicata 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 sul catalogo di anno palosuo a pagina 107 e poi l'uomo delle grandi performance l'artista delle grandi performance una grande opera pazzesca di Li Wei l'artista che sta diventando l'emulo a livello internazionale di Ai Wei Wei un'opera del genere 80 per 120 oggi a meno di 7 8 mila euro non la compri poi un'artista che io adoro e una delle sue opere più belle questa è Lidia Bacchis un olio su tela 60 per 60 questa blackface preziosa di Lidia Bacchis questa è un'artista da tenere d'occhio perché è di una qualità strepitosa e poi una delle opere più rare una delle opere più belle questa è una mitica serigrafia sottila di Emilio Scanavino un metro per un metro di quelle che non trovi di una bellezza assoluta eseguita nel 1973 su tela un'opera così di Scanavino letteralmente non a prezzo letteralmente introvabile amici vi ho fatto vedere tutto sento visto che già c'è movimento al centralino quindi chiedo immediatamente a Maria e a Gabriele mi chiedono ancora tempo mi chiedono ancora tempo per elaborare le vostre proposte per elaborare le vostre offerte lo capisco e vi ringrazio per la vostra partecipazione quello che voglio dire è che in una giornata come quella che stiamo vivendo io prediligerei il telefono per le gare perché è più veloce Gabriele no io sì perché attraverso i messaggi la gara è evidentemente più lenta perché dovete scrivere rispondere eccetera io prediligo il telefono perché per lo meno due telefoni uno contro l'altro sono più veloci anche perché ci tengo vedete già ho usato mezz'ora già ho usato mezz'ora della trasmissione e fare la gara per tutte le 21 opere non vorrei arrivare troppo tardi non vorrei non riuscire a mettere in gara tutto naturalmente a vostro vantaggio Franco quando vuoi ti dico i prezzi che sono arrivati stanno continuando ad arrivare però ti do mi dai un pochino di indicazioni dai allora sentiamo ecco un attimo solo Gabriele sta elaborando le giustamente gli amici mi chiedono di rivedere l'opera di Leoncillo che è clamorosa naturalmente è un pezzo unico naturalmente è un pezzo unico molto importante storico una delle opere letteralmente storiche di Leoncillo Leonardo una di quelle opere che ormai ritroviamo solamente nelle aste di Sortebis e di Cristis è mezzo metro la figura quindi non è un'opera piccolina per l'esattezza la figura è 49 centimetri quindi un'opera di Leoncillo così lo sapete perfetta intatta trovarla a 35 40 mila euro è impossibile oggi un'opera del genere in gara libera naturalmente non mi offrite 1000 euro 2000 euro perché è chiaro che è un'opera che ha un valore completamente diverso è un valore almeno di 40 mila euro poi Leoncillo Leonardi lo sapete perfettamente dove lo trovate nelle grandi aste internazionali in Italia lo potete trovare al Ponte poi da Cristis da Sortebis le opere di Leoncillo vanno a prezzi strepitosi opera preziosa di Leoncillo Leonardi Franco se vuoi ci siamo è del 54 questa donna al sole allora Gabriele mi comunica che è pronto sono in continua evoluzione però ovvio che sei in evoluzione soprattutto all'inizio anzi lo dico per chi ci chiama magari ci scrive magari si spazientisce ma all'inizio siamo sommersi di richieste magari c'è la richiesta da 100 euro quella l'offerta da 100 euro quella da 6.000 euro e via noi cerchiamo di partire nella maniera più pulita possibile allora ovviamente ci sono molte più offerte per le prime opere che sono quelle che hai fatto vedere prima allora si parte da 1000 euro per Alinari al numero 1 1000 euro la prima offerta per il Luca Alinari volevano partire da molto meno ma vabbè 1000 euro mi pare proprio poco 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 per un'opera del genere io ho preso una penna che non funziona poi nel frattempo ti dico 2000 euro aspetta dammi una penna che funzioni perché se no grazie allora 1000 euro per la Alinari che stiamo rivedendo è un'opera almeno da 4000 euro poi poi la numero 2 siamo a 1200 euro contro i 2000 euro che volevamo ma vabbè 1200 per il rabbarama esatto Domenico Bianchi prima seconda o terza offerta no no sono tutte prime offerte tutte prime offerte poi per Domenico Bianchi siamo a 5000 5000 euro la prima offerta per il Domenico Bianchi poi per andatelo a dire a lui a Roma al suo studio poi per Crippa anche qua abbiamo fatto un'enorme fatica siamo a 2006 2000 e 6 ma anche qua ci abbiamo messo molto volevo anche qua partire da pochissimo ah allora arrivano mi dice Maria 700 euro per Finzi al numero 4 700 euro per Finzi allora quindi 700 per Finzi Crippa 2006 poi Ceroli siamo a 1000 1000 euro per l'opera di Ceroli il Crippa l'hai saltato ho visto no 2006 ti ho detto poco fa ah 2006 giusto l'ho pure scritto vedi poi poi Rapetti non ha ancora offerte Biggi siamo a 1000 1000 per il Biggi poi per Mambo 10.000 di partenza di partenza ma vabbè facciamo finta di non aver sentito poi si è innescata già la coppia per gli sciacca sono arrivati 700 euro per la coppia cioè quindi 700 euro l'uno sia per il 10 che per l'11 ma uno è 100 io adesso non voglio fare è uno più grande ho sempre detto che la dimensione non conta non hanno fatto differenza questo lo abbiamo accettato dai poi per pizzicanella non abbiamo ancora offerte per schifano invece aspetta perché c'è Maria che mi dice qualcosa ok allora per schifano pesci per intenderci siamo a 15 di partenza anche qua mi sorride mi sorride Maria con grande fatica oggi un 100 100 di schifano così vi chiedono 40 45 questo è il prezzo questo è il prezzo è cambiato tutto rispetto a quello che accadeva due mesi fa tre mesi fa questo è il numero 13 di schifano poi arrivo l'altro schifano il cerbiatto per intenderci parte dai 6 6 mila euro quella è una tela di un metro per un metro e quaranta è assurdo è assurdo e abbiamo lottato perché tu giustamente dici offerta libera però è chiaro che se arrivano offerte veramente troppo basse cerchiamo di dirlo ai nostri amici abbiamo lottato per far partire la Marta Mesinska almeno dai mille che insomma per dignità ecco non c'è dignità per Banksy infatti non ci sono ancora offerte e invece pensavo che su Banksy ci sarebbero state immediatamente un mare di offerte invece Leoncillo è piuttosto ambito si parte da 16 guardate Sotheby's lo quota tra 40 e 45 40 e 45 è la quotazione di Leoncillo da Sotheby's dopo di che siamo in seconda offerta per Palosuo 700 euro seconda offerta per Palosuo 700 euro quindi con la terza offerta entra in gara poi non ci sono offerte per l'E-Way e Bacchis al momento come mai che ti devo dire e per l'opera di Scanavino siamo a 900 dopodiché ne arrivano altre due attenzione perché Palosuo entra in gara siamo a 800 euro arrivano proprio adesso e quindi è la prima gara di quest'oggi e poi guarda noi ci partiamo però guarda in caso offro più io ma sono arrivati 300 euro per Banksy nel caso veramente faccio 400 euro non è è irreale è irreale allora avete sentito le prime offerte vi prego di velocizzare vi esorto assolutamente a velocizzare la prima opera di entrare in gara è proprio l'olio di Anno Palosuo a 800 euro guarda arrivano già i 900 900 euro è vostro è vostro è vostro difendetelo sapete perfettamente che ho tra l'altro è un'opera pubblicata di Anno Palosuo olio su tela 60 per 80 e sapete che se fate riferimento all'artista stesso oggi un'opera del genere a meno di 3000 euro dallo studio di Palosuo non esce siamo a 900 euro e sono arrivati 1000 adesso 1000 euro 1000 euro per il Palosuo pubblicato 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 e sapete perfettamente ricordiamo scusa Franco i rilanci adesso li mandiamo via whatsapp ai nostri amici e sotto i 1000 euro si va di 100 in 100 superato il muro dei 1000 euro si va di 200 in 200 poi superati i 5 si va di 500 in 500 allora da 1000 euro a 5000 le offerte devono essere di 200 in 200 come nel caso del Palosuo adesso dove siamo a 1200 da 5000 in su di 500 in 500 da 10.000 in su di 1000 in 1000 esatto allora siamo a 1000 euro per il Palosuo siamo a 1200 1200 mi dice Maria 1200 per la prima guardate che io assegno velocemente perché il mio nemico questa mattina è il tempo quindi siate molto solleciti nelle offerte 1200 per la prima 1200 per la seconda 1400 1400 1400 per la prima 1400 per la prima per la seconda sono almeno 5 persone quindi la gara è setata da si tempo 1400 no no aspetto la replica perché so che con i messaggi anche la mia voce a voi arriva non in tempo reale ma con 8 o 9 secondi di ritardo questo l'abbiamo sperimentato allora 1400 per la prima però siate solleciti nella replica 1400 per quell'opera preziosa di anno palosuo 1400 euro amici andate da lui meno di 3000 euro 3500 un 60 per 80 non lo comprate tanto meno quelli pubblicati 1400 si assegna 1400 per la prima la seconda assegnata a 1400 euro amici siate velocissimi perché oggi perdete tutto perché oggi perdete tutto la prima opera è stata dolorosamente per l'artista dolorosamente per le quotazioni normali dell'artista assegnata a un prezzo irreale amici avete idea di quello che vi chiedono per Bansky siamo a 800 euro avete idea di quello che vi chiedono per l'e-way non abbiamo ancora offerte qui addirittura su questa introvabile opera di Scanavino del 73 questa serigrafia sottile atticatura eseguita siamo a 900 euro ne vale non abbiamo aggiornato le offerte siamo a 1400 euro ecco abbiamo migliorato un pochino ma è in gara o è in seconda è ampiamente in gara e tra l'altro i nostri amici comunque sul crollo vedono le offerte quasi in tempo reale concedeteci il quasi perché siete in tanti e magari ci perdiamo una trentina di secondi prima di aggiornare certo allora lo Scanavino è vostro a 1400 euro 1400 per la prima 1400 per la seconda guardate che siamo in assegnazione quindi dovete replicare adesso dovete replicare subito e siamo a 1400 euro l'assegno l'assegno ricordiamo per favore così abbiamo un po' di tempo che questi prestaci ma i 90 giorni di massimo vi ricordo che tutto quello che accade oggi è legato a un pagamento a vista o al massimo in 90 giorni o al massimo entro 90 giorni o naturalmente se usate la finanziaria il discorso cambia perché con la finanziaria potete effettuare il pagamento in un anno due anni tre anni credo fino a cinque anni credo fino a cinque anni però dovete usare la finanziaria mentre il pagamento direttamente con l'azienda non può andare oltre i 90 giorni ed è preferibile a vista allora siamo a 1.400 euro per l'opera che state leggendo strepitosa una serigrafia su tela un metro per un metro eseguita nel 73 tiratura completamente esaurita di Emilio Scanavino una delle opere più belle di Emilio Scanavino chiunque la prende per un olio veramente è talmente bella talmente ben eseguita che dà proprio l'effetto dell'olio a 1.400 assegno Gabriele se non ci sono altre proposte assegno a 1.400 euro è una delusione 1.400 assegnata a 1.400 euro quindi anche l'opera di Scanavino è assegnata c'è quella splendida opera di Lidia Bacchis c'è l'opera di Liwei che aspetta le vostre proposte per il leoncillo Gabriele per il leoncillo siamo in prima o seconda offerta in prima offerta sono arrivati 1.500 per Scanavino ma fuori tempo purtroppo fuori tempo per lo Scanavino il leoncillo guardate che non farlo entrare in gara questa è un'opera da 40.000 è una ceramica originale del 53 di leoncillo Leonardo di 50 centimetri questa donna al sole la portate da Sotheby's è un'opera da 40.000 oggi siamo a 16.000 in prima offerta siamo a 16.000 in prima offerta poi Bansky Bansky seconda offerta adesso 400 seconda offerta scusa non ce n'era una più alta allora seconda offerta 400 seconda offerta 400 per l'opera di Bansky mi sembra assurdo io avevo capito già mi lamentavo per un'offerta al doppio però boh fate voi poi la Marta Mezzinska aspetta le vostre offerte mi raccomando Schifano mi raccomando le due opere di Schifano mille e due pralinari mille e due pralinari mille e due seconda offerta per l'opera di Luca Linari quindi con la terza offerta entra in gara mi raccomando le due opere di Schifano amici con quello che sta succedendo su Schifano veramente i prezzi sono andati 300 per Bacchis poco 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 per la Lidia Bacchis poco 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 per la Lidia Bacchis ci tengo ad entrare in gara ci tengo ad entrare in gara con la grande fantastica opera di Pizzicannella Pizzicannella è no non ho ancora offerte per Pizzicannella non ho ancora offerte per la grande opera di Pizzicannella amici le due opere di Sciacca parlano Rossole le due opere di Sciacca parlano da sole sono opere da migliaia e migliaia di euro sono le opere vere sono le opere storiche sono le opere dipinte da Antonio Sciacca adesso tutti fanno le offerte sul palo suo e sullo Scanavino che sono tutte e due assegnati dovete partecipare nel momento in cui l'opera va in gara perché naturalmente poi quando è assegnata non c'è più nulla da fare quindi dimmi Biggi l'abbiamo segnata da un po' ma non te l'ho comunicata dei 1.500 vero? no ma hai comunicato per Biggi un'offerta di 1.000 e invece siamo a 1.500 ed entra in gara Rabarama a 1.500 anche lei allora sono entrati in gara il Biggi e il Rabarama giusto? Biggi e il Rabarama sono in gara e cominciamo da Rabarama che è quella splendida grande scultura di grandi dimensioni dipinta colorata in gomma e pigmenti la scultura è di 43,5 cm ed è un'opera del 2003 di Rabarama lo sapete i multipli di Rabarama costano 6.000 7.000 euro fate voi siamo a 1.500 euro ed è vostra o partecipate subito perché ho visto che per le opere assegnate poi arrivano tante offerte ma troppo tardi partecipate subito 1.500 euro l'opera è vostra non perdetela 1.500 1.500 per la prima 1.500 siamo a 1.700 1.700 1.700 1.700 per la prima 1.700 per la seconda amici assegnare un'opera del genere di Rabarama a 1.700 euro non è un errore è proprio regalarla è proprio regalarla 1.700 1.700 1.700 per la prima 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 per la prima 1.900 per la seconda 1.900 1.900 io l'assegno a 1.900 euro 1.900 per la prima per la seconda assegno 5 secondi 5 5 secondi guardate che i 5 secondi sono passati 1.900 assegnata via complimenti complimenti ai 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 sempre dopo sempre con un attimo di ritardo mi dispiace mi dispiace vedevo perché ogni tanto do un'occhiata anch'io al computer che ci sono molti interessati per l'opera di Alinari che vale 4.000 5.000 euro qualcuno Gabriele ho visto che qualcuno ha fatto offerte di 100 in 100 devo dire che dobbiamo andare di 200 in 200 da 1.000 euro a 5.000 euro le offerte devono essere di 200 in 200 per adesso per il gioiello di Luca Linari tra l'altro del 97 siamo a 1.200 siamo a 1.200 entra in gara 1.400 chiedo scusa ai nostri amici se rispondiamo con lentezza ma oggi sono tantissimi come non mai meno male allora 1.400 è in gara il dipinto di Luca Linari è vostro è vostro difendetelo non arrivate tardi perché poi una volta assegnata l'opera non c'è nulla da fare 1.400 per la prima 400 euro per Bacchis intanto 400 euro la seconda offerta per l'opera di Lydia Bacchis allora su Alinari c'è molto interesse ma 1.400 io credo di aver venduto Alinari a 1.400 euro quando è arrivato l'euro cioè 20 anni fa 20 anni fa oggi un Alinari così meno di 4.000 4.500 non ve lo vende nessuno è un olio su tela 40 per 60 del 1997 e siamo a 1.400 euro 1.400 per la prima 1.600 1.600 1.600 1.600 naturalmente do il tempo per la replica ma siate velocissimi 1.600 replicate immediatamente perché il prezzo è inesistente non basso inesistente 1.600 per la prima 1.600 aspetto 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 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 per la prima 1.800 per la prima, 1.800 per la prima. 1.800, aspetto ancora un secondo, sì ma dovete, poi arrivare tardi significa perdere per sempre, perché opportunità del genere non si ripetono, opportunità di questo livello non si ripetono. 1.800 euro per la Linari, 1.800 per la prima, 1.800... 1.800, scusami. No, che succede? Raccontami. 1.800 viene nuovo ma non ha superato la fatica di registrazione. Allora torniamo indietro, allora è 1.600 per la Linari perché l'offerta di 1.800 non è stata, come posso dire... Molto semplicemente non risponde alla conferma telefonica. Ecco, non risponde alla conferma telefonica. Allora 1.600, 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, assegno... Io l'assegno, 1.600 euro, complimenti a chi l'ha preso ma un rimprovero a tutti, un rimprovero a tutti perché una Linari così ha un prezzo del genere, non lo troverete mai. Poi c'è il Domenico Bianchi, che tutti quanti le opere di Domenico Bianchi, andate nelle grandi gallerie, andate al MoMA per opere così di Domenico Bianchi, si parla di 15.000, 18.000... Entra in gara a Banksy, siamo a 500. 500. 500 euro per il... Entra in gara anche Lidia Bacchis, anche lei a 500 euro. Allora, Bansky e Lidia Bacchis sono a 500 euro, quindi a zero. Mi iper raccomando le opere di Pizzicannella, di Schifano, di Crippa, di Bianchi, di Mambo. Allora, dove siamo in gara, Gabri? Dove dobbiamo andare? Bacchis e Bacchis. Bacchis e Bansky. Allora, cominciamo da Bansky, che è un gioiellino, graffiti e senza il zucchartone. Ed entra in gara anche il Crippa a 3.2. A quanto il Crippa? A 3.200, mamma mia. Amici, io prendo atto, prendo atto. Allora, il gioiellino di Bansky, 30 per 21, pubblicato, è a 500 euro. È a 500 euro. Devo raggiungere, almeno dovrei raggiungere, almeno 3.000 euro. Oh, fate attenzione, a 500 euro è vostra l'opera di Bansky. A 500 euro è vostra l'opera di Bansky. L'artista misterioso per Antonomasia. 500 euro per la prima. Mamma mia, quello che sta succedendo. 600. 600. 600. Dai, dai, di corsa, di corsa, di corsa. 700. 700. 800. Mi senti, buongiorno? No, 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 un altro cliente. C'è tutto, c'è una grande bagnavonda. 900. Bansky ha 3.000 euro e regalato. 1.000 per Gabriele. 1.000 per Gabriele. 1.200. 1.200. Adesso andiamo di 200 in 200. 1.000 per la prima. Dai, di corsa, non lo comprirete mai, Bansky a un prezzo del genere. Poi fate la fila per andare a vedere la mostra. E pagate il biglietto per andare a vedere la mostra. 1.400. 1.400. 1.400 per la prima. 1.400. 1.400 per la prima. 1.400 per la prima. 1.000 per la seconda. 1.400 euro per il gioiellino di Bansky. 1.400 per la prima. 1.400 per la seconda. Lo assegno. Federico mi dice di no perché se lo compra lui. 1.400, vai, assegnato, complimenti, ma guardate, ve le sto regalando perché letteralmente voglio far entrare in gara tutto. Voglio far entrare in gara tutto, quindi veramente ho problemi di tempo. C'è in gara, questa è un'artista vera, questa è un'artista straordinaria, questa è un'artista affascinante, Lidia Bacchis. Quel gioiello di Lidia Bacchis, lei chiede nelle mostre 4.000, 5.000 euro, è un'artista emergente ai massimi livelli. Questa blackface, 60 per 60, olio su tela, è a 500 euro, è a 500 euro, è a 500 euro, ed è vostra. Lidia Bacchis, 500 euro per la prima, precipitatevi, olio su tela, gioiello di Lidia Bacchis. 600 euro. 600 euro, 600 euro, 600 euro per la prima, 600 euro per la seconda. Non fatemi aggiudicare un gioiellino di un'artista stimatissima, adorata dalla critica, considerata una delle protagoniste della figurazione contemporanea. Non fatemela assegnare a cifre del genere. 600 euro per la prima, 600 euro per la seconda, 600 euro assegnata l'opera di Lidia Bacchis, direi regalata. Mi sembra che sia in gara il Bigi, ho sbaglio. E' il Crippa per il quale ci chiedono di far gara prima, e possiamo credo accontentarvi, ma prima ancora ti chiedono la cortesia di farvi vedere quello che c'è. Volentieri, volentieri, volentieri. Sono in gara l'opera di Crippa a 3.200 e l'opera di Bigi a 1.500 e adesso giustamente ci sono nuovi telespettatori che mi chiedono di far rivedere quello che c'è. Allora, andiamo in ordine. Il numero 1 e il numero 2 sono stati assegnati. Al numero 3 c'è un'opera rarissima, importantissima, a rilievo, Olio e cera su tela, 80x60, del 2007, di Domenico Bianchi. Domenico Bianchi è come Algardi, cioè sono quegli artisti, come lo giudice, quegli artisti italiani che hanno conquistato il mondo. Mostre al MoMA di New York, nelle gallerie più importanti del mondo. Oggi un'opera di Domenico Bianchi a meno di 20.000, 18.000, 25.000 non la compri. Siamo in prima offerta a 5.000, prima offerta a 5.000. Poi il verso del colore di Ennio Finzi, 80x80, Olio su tela, un'opera del 2002. Siamo, questo è un quadro da 4.000 euro, siamo in prima offerta a 700 euro. Poi c'è il Crippa meraviglioso, 100x80, il mitico Meteorite del 1971, un'opera storica di Roberto Crippa, quelle vere, non quelli che io chiamo i Crippini, quelli meno beri. Questo è vero, storico, 100x80, scandalosamente già vostro, è già in gara a 3.200 euro, ma ne vale almeno 10.000. Entriamo in gara tra pochi minuti. Poi c'è un Ceroli del 70, alla numero 6, Profili e squadre, 70%, che viene dalla mitica Galleria dei Foscherari di Bologna, a meno di 4.000 euro non si vende. C'è una prima offerta di 1.000 euro. Al numero 7, una stupenda composizione di Alfredo Rapetti Mogol, 80x60, che aspetta le vostre offerte. Poi un gioiello pubblicato sul catalogo generale di Gastone Bigi, 25x20. questo siamo in gara a quanto, Gabriele, a 1.500 siamo in gara. Poi, oltre il muro pubblicata sul catalogo dei pressi dell'origine di Praga, opera preziosa di Renato Mambor, 100x120, opera minimo da 30.000 euro, prima offerta 10.000 euro. Prima offerta 10.000 euro, precipitatevi perché questa è un'opera sensazionale. Tra l'altro siamo a 11.000 euro, ti aggiorno. 11.000 euro, seconda offerta per il Mambor, con la terza offerta entra in gara. Poi, le due opere vere di Antonio Sciacca, un 100%, questa suggestione, e un 130x90, le opere autografe di Antonio Sciacca, quelle per le mostre americane, quelle che costano 10.000 euro ciascuna. Siamo in prima offerta per ciascuna a 700 euro. Ridicolo, ridicolo, ridicolo. Piero Pizzi Cannella da follia. Piero Pizzi Cannella letteralmente da follia. 1985, 190x130 viene dalla mitica associazione culturale dell'Attico. Minimo, in qualsiasi asta, Pizzi Cannella così, minimo 45. Aspetto ancora le vostre offerte. Aspetto ancora le vostre offerte. Poi, due opere magiche di Mario Schifano, l'Acquario, un metro per un metro dell'82, che oggi minimo lo pagate 40. prima offerta 15.000, opera pubblicata, archiviata, 100x140, tela computerizzata, ritoccata a mano. Queste sono da follia, un metro per un metro e 40. Amici, qui ho una prima ridicola offerta di 6.000 euro. Ho una prima ridicola offerta di 6.000 euro. Poi, Marta Mezzinca, l'Impossibile amore, 100%, ho una prima offerta di 1.000 euro. E poi, dove c'è l'attenzione di chi conosce, qui ho la mitica Donna al Sole, una delle sculture più pubblicate, una delle sculture storiche di Leoncillo Leonardi. Andate a vedere sui cataloghi internazionali, opere del genere, minimo 40.000 euro. Minimo 40.000 euro. Ho una prima modestissima proposta di 16.000 euro. Di 16.000 euro. Opera, è una ceramica di mezzo metro di Leoncillo Leonardi. E chiudo con una fantastica grande opera, 80x120, questo Bolo sopra Venezia, mitico di Lee Wei, l'artista che sta conquistando il mondo con le sue performance fotografate. Lee Wei eccezionale, Lee Wei straordinario. Anche qui aspetto le vostre offerte. Allora, ho due opere in gara. Ho l'opera di Roberto Crippa, che è a zero, che è letteralmente a zero. Amici, Crippa è uno dei grandissimi, alla base dello spazialismo di Fontana c'è il nucleare di Crippa, artista enorme. 3.200 euro, l'opera è vera del 71, è vostra a 3.200 euro, vale almeno 5 volte tanto ed è ancora sottovalutato. 3.200 euro, l'opera è vostra a 3.200 euro per quell'opera assolutamente preziosa di Roberto Crippa. 3.200 euro per la prima, 3.500 mi dice adesso Gabriele, 3.500 euro. 3.500 euro, 3.500 euro per la prima, è un metro per 80, non è piccolino, è un grande quadro straordinario di Roberto Crippa e siamo a 3.500 euro, 3.500 per la prima, amici ma che fate? Ma che fate? Perdete delle opere da grande collezione, perdete delle opere di valore assoluto nel momento in cui avete l'opportunità di pagarle nulla. Non fatemi assegnare quell'opera di Crippa vera, meravigliosa, pagate quelli che io chiamo i crippini, che Crippa non l'hanno mai visto, li pagate 5.000, 6.000 quelli fasulli. Quello vero, quello storico, quello clamoroso, a 3.500 euro vi fermate. È una follia, è una follia. 3.500 per la prima, 3.500 per la prima, 3.500 per la prima, 3.500 per la seconda. Questo è un pezzo, da museo. Mi fate veramente arrabbiare. Mi fate veramente arrabbiare. Questa è un'opera che porterei a casa io, è da museo e siamo a 3.500 euro. È assurdo. 3.500 per la prima, 3.500 per la prima, 3.500 per la seconda. Io la assegno, la devo assegnare, però buttate via un'opportunità storica, perché comprate a 5.000, 6.000 euro quelli fasulli e questo è storico, è vero. Lo assegno con infinito dolore, perché uno dei quadri che amo, faccio i più vivi complimenti a chi è iperfortunato, è colui che sta prendendo quest'opera a questo prezzo, è iperfortunato. 3.500 assegnato, un milione di complimenti, veramente un grande quadro. Poi, Gabriele, se non sbaglio, è in gara il gioiellino di Bigi, è in gara il gioiellino di Bigi pubblicato, giusto? Amici, io li ho venduti a 8.000 euro, sono gemme, sono letteralmente gemme. Pubblicato, 1.500 euro, quel gioiellino di Gastone Bigi, 1.500 euro, 1500 euro, 1.500 euro, 1005 per quella superba opera di Gastone Bigi. No, non si può a 1.600, guardate, fino a 1.000 euro le offerte sono di 100 in 100, oltre i 1.000 euro le offerte vanno di 200 in 200. Sì, mi chiedevano perché siamo a 1.500, allora siamo a 1.500 perché un amico da 1.000 ha offerto 1.500. Siamo a 1.500 perché un gentile amico da 1.000 per spezzare la gara ha fatto 1.500, capite? Se voi volete potete fare anche 2.200, capito? Un gentile amico per spezzare la gara intelligentemente ha fatto l'offerta più alta. 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda, mi chiedono tempo al centralino, guardate che è l'ultima opera di Bigi che ho e che posso dare a un prezzo del genere, dimenticate la possibilità di acquisire un'opera di Bigi a un prezzo del genere, 1.700, quindi do il tempo per la replica, do 20 secondi per la replica, 1.700 euro, 1.700, 1.700 per la prima, 1.700 per la seconda, 2.000. 2.000, 2.000 per il gioiellino di Bigi, 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda, 2.000 assegnato assegnato a 2.000 euro il gioiellino di Bigi. Allora amici, adesso devo chiedere a Gabriele, devo chiedere al centralino quali sono le opere in gara. Qui ci sono gli Schifano, c'è l'opera strepitosa di Pizzicannella, c'è il Domenico Bianchi da Urlo, tutte opere, c'è il Ceroli, c'è quella Gemma di Finzi, tutte opere sulle quali devo sentire proprio la vostra partecipazione è il vostro entusiasmo. O state esitando su quella ceramica di Leoncillo, che è una follia esitare, quelle sono le grandi opportunità di investimento. State esitando sull'opera di Mambo, chi vuole investire denaro, chi vuole investire denaro, questo è l'artista che vi fa, se siete nella media, questo è l'artista che vi fa diventare ricchi. Le opere di Mambo, nel momento, voi dovete pensare che l'operazione economica su Mambo non è nemmeno cominciata e quando comincerà, che sarà tra breve, l'opera di Mambo la potranno comprare solamente i più ricchi a livello internazionale. Mambo diventa un mito oltre che culturale economico. Come lo è diventato Pollock, capitemi, come lo è diventato Bacon. Mambo sarà tra gli artisti italiani più pagati di sempre al mondo. Mettetevelo bene in testa. E lo so che questo crea l'invidia di tanti artisti e di tanti mercanti, ma è così. Perdere quest'opera di Mambo oggi significa perdere il più clamoroso investimento culturale ed economico che si può fare oggi su un artista italiano. Poi ci sono le due opere di Sciacca che sono di una bellezza e che sono di una qualità pittorica straordinaria per le quali ho avuto per il momento una sola offerta. C'è una prima offerta per Rapetti a 400 euro. Allora, prima offerta per l'opera di Alfredo Rapetti Mogol a 400 euro. Ve la faccio rivedere quella tecnica mista su carta raffinatissima di Alfredo Rapetti Mogol. Eccola qua, splendida. Non so se è pubblicata, ma c'è un bellissimo libro dedicato proprio a questo ciclo di opere. Poi le opere di Schifano. Il Domenico Bianchi pensavo vi sareste precipitati. Domenico Bianchi non lo trovate mai sul mercato, lo trovate nelle aste di Sotheby's, però a 20 mila euro. I grandi investimenti, oltre sulle opere di Schifano, oltre che sull'opera di Leoncillo, sono sul Bianchi e sul Mambor. Sono sul Bianchi e sul Mambor. E i collezionisti più raffinati che abbiamo, proprio sono le due opere che non dovrebbero perdere in assoluto. E il Mambor siamo a zero perché siamo a 11 mila e in seconda offerta. E' entrato in gara il Ceroli, siamo a 1.4. 1.4, seconda offerta per l'opera di Ceroli. No, scusami, non ti avevo dato i 1.2 prima? No, non me ne ho dato. Ah, è colpa mia. Quindi è terza. Terza offerta per l'opera di Ceroli a 1.400 euro. quel profilo, quella serie di profili e squadre del 1970 entra in gara. È vostra a 1.400 euro. Difendete quell'opera. Difendete quell'opera grandiosa di Ceroli. Difendete quell'opera... Ed entra in gara il Mambor a 12.000? Entra in gara anche il Mambor a 12.000 euro, ma è scandaloso. Dovrebbe già essere a 30.000, a 35.000. Allora, Ceroli a 1.400 euro. Ceroli a 1.400 euro ed è vostro. 1.400 euro. Per la prima? No, aspetto, 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 via. Guarda che meraviglia di Ceroli. 1.400 euro. 1.600 euro. 1.600 euro. Do, naturalmente, tempo per la replica. 1.600 euro. 1.600 euro. Ma non perdete un'opera di Ceroli di questa bellezza, di questa qualità, a un prezzo del genere. 1.600 euro. 1.600 euro. 1.600 per la prima? 1.600. 1.600 euro. 1.600 euro. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800 per la prima? 1.800. 1.800 per la seconda? 2.000. 2.000. 2.000. Precipitatevi, opera preziosa di Mario Ceroli. 2.000 per la prima? 2.000 per la seconda? 2.2. 2.2. 2.000 e 2. 2002, ma è sotto zero, 2002 per la prima, 2002 per la seconda, precipitatevi, precipitatevi. Perché poi nascono i pentimenti e poi arrivano le offerte troppo tardi. 2002, assegno? 2004, ancora qualche secondo per la replica, 2004 per la prima, 2004 per la seconda, amici, attenzione, 2.400 euro, lo perdete? Per la prima, per la seconda, dai, assegnato, ma è una meraviglia, ma è una meraviglia. Complimenti, complimenti, complimenti. E ora, attenzione perché i tre amici che hanno fatto le loro proposte sul Mambo, 10.000, 11.000, 12.000, vi giocate un quadro che cambia la dimensione. O siete ipermilionari o l'acquisizione o la non acquisizione di quest'opera cambia la posizione economica di un individuo, di una famiglia. L'opera è pubblicata in occasione della grande mostra di Mambo a Praga e è già famosa nel mondo. Oltre il muro, oltre il muro dell'ovvio, oltre il muro della cultura massificata imposta dal sistema, la sedia dove bisogna salire per oltre il muro dell'ovvietà. Opera pubblicata, opera storica di Mambo, che oggi vale da 35 a 40.000 euro, ma Mambo diventa uno degli artisti italiani più pagati di sempre. Per tanti motivi che vi ho spiegato un mare di volte e oggi non ho il tempo di ripetere. Ma non perdete quest'opera, è vostra a 12.000 euro. Siete in tre a contendervela. Spero ci sia il quarto, il quinto, il sesto. Non perdete assolutamente un'opera di questo livello pubblicata di Renato Mambo. Siamo a 12.000 euro e replicate immediatamente. 12.000 euro per quell'opera assolutamente preziosa, per quell'opera assolutamente straordinaria, non a caso storica, non a caso pubblicata. È vostro, il quadro è vostro. mi iper raccomando, non lasciatevelo sfuggire. 12.000 per la prima, 13.000 per la seconda, 13.000 14.000 per la seconda, 14.000 per la seconda. Dai amici, gaga, 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 velocissimi. Siamo a 15.000. 15.000, 15.000, 15.000, ma velocissimi. 16.000. 16.000, ma iperveloci. No, noi. Strapubblicata, storica, fondamentale nel significato, perfettamente in sintonia con le motivazioni culturali di Mambo. 16.000 per la prima, 16.000 per la seconda. Gabriele, chi sta al telefono con te si ferma, commette la follia delle follie. Commette la follia delle le follie. 16.000 per la prima, 16.000 per la seconda, 16.000. Io la assegno, ma è il più fortunato del mondo, ma è il più fortunato del mondo. Opera da 38.000, 40.000 oggi. Follia, 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 follia. Ma ve l'ho detto che è la giornata delle follie. Ma ve l'ho detto... che devo fare? Devo aspettare un secondo. Devo attendere. Devo attendere. 17.000. 17.000 sul filo lana. Proprio sul filo di lana. 17.000. Non perdete le grandi opportunità. Non perdete le grandi opportunità. Non perdete le grandi opportunità. Un'opera del genere, un prezzo del genere, mai più nella vita. 17.000 per la prima. 18.000 per la prima. 18.000 per la seconda. 18.000 per la seconda. 18.000 assegnata. Un miliardo di complimenti. Un miliardo di complimenti. Un miliardo di complimenti. Un'opera sensazionale. Amici, gli Schifano. Amici, il Pizzicannella. Amici, quell'opera preziosa di Leoncillo Leonardi. Amici, non perdete le opportunità storiche. Non perdete le opportunità epocali. Non perdete le opportunità fondamentali. Poi vi posso dire una cosa? Il prezzo che sta... c'è l'opera di Leoncillo che entra nelle più grandi collezioni del mondo. C'è l'opera di Domenico Bianchi che è letteralmente da urlo. Ma vi posso dire una cosa? Ci sono due... Entra in gara il Bianchi? 7.000? 7.000 euro. Seconda o terza offerta? Entra in gara il Domenico Bianchi. Entra in gara il Domenico Bianchi che con questa offerta è vostra è la terza offerta ed entra in gara un'opera di questo livello ed entra in gara un'opera di questa straordinaria qualità di Domenico Bianchi. Sono le opere che avete visto al MoMA. Sono le opere che avete visto nei più grandi musei del mondo. Andate a vedere le aggiudicazioni internazionali rare ma altissime di Domenico Bianchi. Entra in gara anche lo schifano i pesci numero 13 a 18.000? Allora sono in gara il Domenico Bianchi a 7.000 ed entra in gara anche l'acquatico di Mario Schifano a 18.000 euro. Quindi abbiamo in gara... Gabriele, come voglio io? Come vuole il nostro pubblico? Stavamo su Bianchi, partiamo da Domenico Bianchi. Amici, io sono orgoglioso perché poter offrire al nostro pubblico, poter offrire ai nostri amici, poter offrire ai nostri collezionisti un'opera da MoMA e potervela offrire al prezzo che volete voi, non al prezzo che sentite normalmente nelle gallerie. Perché un'opera di Domenico Bianchi così, oggi in qualsiasi galleria meno di 20-25.000 euro non te la danno. 7.000 euro è vostra. Oggi è la giornata degli acquisti clamorosi. 7.000 euro l'opera è vostra. Fate voi, guardate, questo ve lo metto per iscritto, non capiterà mai più nella vita la possibilità di comprare, di mettere in collezione un'opera storica di Domenico Bianchi a, non a 7.000, ma al doppio, al triplo. Tocca a voi, tocca a voi, non perdete questa gemma di Domenico Bianchi. 7.000 euro. 7.000 euro per la prima, 7.000 euro per la seconda. Amici, sono momenti inimmaginabili. Mai avrei pensato di potervi assegnare un'opera storica di Domenico Bianchi a 7.500 euro. Perdere un'opera del genere per 1.000, 2.000, 3.000 euro è una follia. Decine e decine di voi mi chiedono dove è più conveniente investire. Oggi un'opera del genere, ma non a 7.500, a 10.000, a 12.000, a 15.000, non la compri da nessuna parte del mondo. 8.000 adesso. 8.000 adesso. 8.000 per un'opera di Domenico Bianchi di questo livello. 8.000 euro per la prima, 8.000 per la seconda, 8.500. Non perdetela mai, non perdetela mai perché non vi capiterà mai più l'opportunità di acquisire un'opera del genere a un prezzo del genere. Non vi potrà capitare mai più. A 8.500 euro, opera di Domenico Bianchi clamorosa. 8.500 per la prima, 9.000. 9.000. 9.000 euro per la prima, 9.000 euro per la seconda, 9.000 euro, un'opera di Domenico Bianchi di questo livello. Questa sarà pubblicità per noi, perché mi direte quando mai più capiterà un'opportunità del genere. A 9.000 assegnata via. 9.000 euro l'opera di Domenico Bianchi. E poi è in gara quell'opera di Mario Schifano che adoro. Amici, quello che sta accadendo su Mario Schifano... Appena ricevuta la seconda offerta per Marta Mezz, 1.200 euro. Amici miei, Mario Schifano... Mario Schifano... Che devo dire? Io ho una vita che vi parlo di Mario Schifano e adesso vi state rendendo conto che per l'ennesima volta vi ho fatto investire il vostro denaro sull'artista iper Vincenzo. Gabriele, negli ultimi due mesi i prezzi di Mario Schifano sono raddoppiati. Poi con Bologna, con la fiera di Bologna, non vi dico quello che è successo. Oh, e tutti coloro che hanno portato le opere di Mario Schifano a Bologna le hanno vendute. Ma a prezzi che vanno dagli 80.000 ai 150.000, 200.000, 600.000 le opere più importanti. Ormai Schifano viaggia a quei livelli. Ormai ci sono opere di Schifano addirittura da un milione, un milione e due, due milioni. Lo sapete. Lo sapete. Opera autografa di Mario Schifano. E sapete perfettamente che questo è fondamentale. Opera rigorosamente autografa di Mario Schifano, opera di qualità straordinaria, con tutte le colature, poi il significato, il recupero. Maria, qual è il significato di quest'opera? Il recupero? Il pesce. Che cos'è? È uno dei primi simboli del cristianesimo. Quindi il recupero dei valori della società occidentale e il recupero dei valori basilari del cristianesimo. Opera pazzesca di Mario Schifano. Opera museale di Mario Schifano. Siamo, è vostro, è vostro, opere simili a Bologna, opere simili a Bologna sono state vendute a 45.000, 40.000, 45.50. Siamo a 18.000 euro. Siamo a 18.000 euro. 19.000. 19.000 euro. 19.000 euro per questa preziosità di Mario Schifano. 20.000. 20.000. ho adesso, Maria, adesso di 2.000 in 2.000, adesso di 2.000 in 2.000, 20.000 euro per l'opera di Mario Schifano. 20.000. 20.000 euro per la seconda. 22.000. 22.000. 22.000. Guardate, non perdetela, perché le opere vere, autografe di Mario Schifano, a questo prezzo, non le comprate più, non le comprate più. Siamo a 24.000. 24.000. 24.000 per la prima. Intervenite adesso, intervenite adesso. Le perdete per sempre. Le perdete per sempre. Le perdete per sempre. Le opere vere, le opere storiche. 26.000. 26.000 per Mario Schifano. 26.000 per questa gemma di Mario Schifano. 26.000. Ma replicate, replicate senza esitazione. 26.000 per la prima. No, 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 non ci sono diritti d'asta. Il prezzo che definiamo è quello. L'opera è pubblicata, l'opera è anche pubblicata. 28.000. 28.000. 28.000. 28.000 per Mario Schifano. 28.000 per la prima. 29.000. Dai, 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 amici. Le opere storiche di Mario Schifano, a un prezzo del genere, non le comprerete mai più. non le comprerete mai più. 28.000 per la prima. 28.000 per la seconda. 28.000. Mario Schifano. 29.000. Guarda che non lo compri più. Guarda che non lo compri più. Bada che non lo... quello giusto, quello vero, quello autografo, poi mi compri i sottoprodotti a 25 e credi di aver risparmiato e hai buttato via i soldi. Quando compri il sottoprodotto, butti via il denaro, questo è fatto da lui. 28.000 per l'ultima volta, 28.000 per la prima, 28.000 per la seconda. Chi ha fatto 26 si morderà le mani per tutta la vita. 28.000 per la seconda. Chi lo perde e chi adesso è indeciso se intervenire o meno e sta perdendo quest'opera, si mangerà le mani per tutta la vita. 28.000... assegnato a 28.000 euro, assegnato a 28.000 euro, complimenti, complimenti, complimenti. Il Finzi aspetta le vostre offerte, l'Opera di Leoncillo aspetta le vostre offerte. e ricordati, e ricordati che le telecomputerizzate storiche pubblicate di Mario Schifano costeranno più degli oli. Io quando ti dico le cose, poi si verificano, perché io non ti dico le balle, non faccio il presentatore, io faccio lo studioso, lo storico, che è una cosa diversa, quindi le fandonie del presentatore, non te le dico, le teleemulsionate e le telecomputerizzate di Mario Schifano nel giro dei prossimi cinque anni costeranno di più delle opere ad olio. E poi tutte le telecomputerizzate di Mario Schifano hanno l'intervento manuale dell'artista. Questa è una preziosità, avete offerto per quest'opera, vale 25.000 euro oggi, costerà più degli oli, sai quanto avete offerto per quest'opera? 6.000 euro. 6.000 euro è vergognoso, con tutto il ritocco a mano, tutto il verde che vedete e tutta pittura calligrafica di Mario Schifano. Ma è da urlo, queste sono le grandi opportunità, queste sono le grandi opportunità come una grande, enorme opportunità culturale ed economica, è l'opera di Leoncillo. Tocca a voi, se questo vale 6.000 euro, proprio siete lontanissimi da quelli che sono i valori obiettivi delle opere storiche. Questo è un quadro da 25.000, questo è un quadro da 25.000 oggi. Poi state trascurando le due opere pazzesche di Antonio Schacca, che sono quelle vere, che sono quelle da mercato americano, che sono quelle da 10.000 euro l'una. Sai che quanto mi avete offerto per le opere? 6.500 intanto per Schifano. 6.500 per l'opera di Mario Schifano, che non è in gara ancora, vero? No, manca la terza offerta per entrare in gara con l'opera di Mario Schifano. Come avete avuto il coraggio di offrire per delle opere di questo livello da mercato americano? 700 euro l'una. 700 euro l'una. Un 100-100 fantastico e un 130 per 90 meraviglioso. 700 euro l'una. Amici, tocca a voi. Non ho opere in gara per il momento. E ho lo Schifano, la Marta Mezzinska, l'opera pazzesca di Riewey, il Pizzi Cannella, il Pizzi Cannella meraviglioso, le due opere di Sciacca, l'opera di Finzi, l'opera straordinaria di Rapetti. Inquadriamo gentilmente l'opera 4 di Finzi. Andiamo a leggere quel gioiello ad olio di Ennio Finzi. Il verso del colore, 80 per 80, olio su tela. Amici? No, no, no. Maria, per lo Schifano deve essere un terzo concorrente diverso. E' inutile che mi offrite 7.000, 8.000, ma siete sempre lo stesso. Ma siete sempre lo stesso cliente. Ci vuole, per entrare in gara, ci vuole un minimo di tre concorrenti diversi. Ha un'indicienza culturale, ha detto, è un'indicienza dell'associazione culturale l'attito di Roma e al momento del via è l'ossetta ricerca, l'ultima. Va bene, glielo portavo un po' a parlare a me. Dove se lo stai? Rivediamo il gioiello di Pizzi Cannella, mamma mia, ma quello è un quadro da 40.000 euro. Quello è un quadro da 40.000 euro. 190 per 130, Piero Pizzi Cannella dell'85. Allora, intanto entra in gara Marta Mezinska, siamo a 1.400. 1.400 euro per l'opera di Marta Mezinska, questa artista innovatrice, modernissima, che non solo lei è di Varsavia, ma ha uno studio a Londra e sta ottenendo successi internazionali importanti. E' vostro, è vostro, è vostro, è vostro, è un centocento. E' ottocento per Finzi. Quanto, scusami? 800 euro per l'opera di Finzi, che quindi entra in gara lì il Finzi. Sì, sì, credo entra in gara l'opera di Finzi. Allora, 1.004 per la Mezinska? 1.004 per l'opera di Marta Mezinska è vostra. 1.004 per l'opera di Marta Mezinska è in gara. 1.004 per la prima, 1.004 per la seconda, 1.006 per la grande opera, un metro per un metro. Di Marta Mezinska si vendono a 2.500-3.000 opere, i 30x30, le opere piccoline, per un'opera preziosa, rarissima, un metro per un metro, siamo a 1.006. 1.006 per la prima, 1.008 per la prima, 1.008 per la seconda, 2.000. 2.008 per l'opera di Marta Mezinska, 2.008 per la prima, 2.008 per la seconda, 2.008 per la prima, l'opera di Marta Mezinska è in gara di Marta Mezinska è in gara di Marta Mezinska. Un metro per il viaje, 2.008 per la prima e la seconda, 2.008 per la prima, 3.008 per la prima, 2.004 per la prima, 2.008 per la seconda, 2004, 2006, 2006, 2006 per la prima, 2006 per la seconda, 2006, 2006, assegnata a 2.600 euro, assegnata a 2.600 euro. C'è, ci sono ancora delle opportunità pazzesche, lo schifano di un metro per un metro e quaranta, pubblicato, storico, siamo a quanto, Gabriele, per lo schifano? 6.500 euro. Ne vale 25 oggi, ne vale 25 oggi, ne vale 25 oggi. E queste opere costeranno, io ve lo sto dicendo adesso, in tempi non sospetti, se io avessi un capitale da investire, comprerei tutte le tele computerizzate autografe che esistono. costeranno più degli oli di Mario Schifano, 6.500 euro. mi manca la terza offerta per entrare in gara, mi manca la terza offerta, è la quarta volta, Gabriele, che l'amico che ha fatto 6.500 mi dice faccio 7.000, ma è uguale. Io non voglio 7.000, non voglio 8.000, non voglio 9.000, ma voglio tre concorrenti diversi, per entrare in gara, per entrare in gara, opera preziosa di Mario Schifano. Poi, voglio, va in gara all'opera più grande di Antonio Schifano, che è una meraviglia, guardate, questa è pittura, non è fotografia, questa è pittura, ma è pittura a livello Chuck Close, qua le opere autografe di Schacca costano l'ira di Dio. Quanto siamo per quest'opera, Gabriele? 900 euro, io non dico nulla, se questa è un'opera da 900 euro, io sono Garibaldi, dai, 900 euro, Antonio Schacca opera da collezione, opera da mostra internazionale, olio suttila, un metro e trenta per novanta, 900 euro, 900 euro per la prima, 900 euro per la seconda, 1000 euro, 1000 euro. dai, amici, è assurdo, è letteralmente assurdo perdere un'opera di questa bellezza, di questa qualità, di questo fascino a 1000 euro. 1000 euro per la prima, 1000 euro per la seconda, 1000 e due. A 1000 e due, 1000 e due, 1000 e due. Guarda, guarda la qualità e la bellezza di questo dipinto di Antonio Schacca. Ma secondo voi un'opera del genere si può vendere a 1200 euro? A 1200 euro si vendono le opere di dilettanti, e non di artisti, non di artisti riconosciuti in tutto il mondo. Siamo a 1200 euro. L'assegno? L'assegno a 1200 euro. 1200 euro per la prima, 1200 euro per la seconda, 1400 euro per la seconda, 1400 euro per la prima, 1400 euro per la seconda, 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 1600, 1600, 1600, ma è splendida, è letteralmente un'opera superiore. 1006 per la prima, 1006 per la seconda, la seconda, Maria posso assegnare? Sì? Posso assegnare? 1006 per quella splendida opera di Antonio Schacca, 1006 assegnata, complimenti, complimenti, complimenti. Allora abbiamo il Finzi a 800 euro, li rivediamo? Rivediamo al numero 4, l'olio su tela 80 per 80 di Egno Finzi, siamo a 800 euro, siamo a 800 euro, per la splendida opera di Alfredo Rapetti Mogol, che adesso la regia vi farà rileggere, siamo a 400 euro. Amici, è 80 per 60, Alfredo Rapetti Mogol, 400 euro. Per la mitica suggestione, 100% di Antonio Schacca, siamo a 700 euro. Ma guardate che meraviglia, ma guardate che meraviglia, siamo a 700 euro. E poi i delitti epocali, una delle opere più rare, una delle opere più belle, una delle opere più significative di Piero Pizzicannella, 190 per 130 del 1985, un olio su tela prezioso di Piero Pizzicannella, siamo a 20.000 euro. Siamo a 20.000 euro. E mi dice adesso Gabriele che siamo in seconda offerta, e qui viene il dramma, siamo a 17.000 per la ceramica di Leoncillo, Pizzicannella, per quell'opera preziosa di Leoncillo Leonardi. Quindi con un'altra offerta entriamo in gara, ma andate a vedere le aggiudicazioni internazionali per le opere di Leoncillo. Poi, per la grande e fantastica opera di Lee Wei, addirittura 80 per 120, 80 per 120, quanto siamo per il Lee Wei, Gabriele? Siamo a zero, siamo a zero per la grande opera di Lee Wei. Qualcuno voleva offrire qualche centinaio di euro. Qualcuno voleva offrire 500, 800, ma Lee Wei oggi almeno 4.000, 5.000, minimo, minimo, minimo siamo a quei livelli. L'opera più clamorosa, l'opera più affascinante, un metro per un metro e quaranta di Mario Schifano, pubblicata con un intervento manuale pazzesco, siamo addirittura a 6.500 euro. Un metro per un metro e quaranta, tela computerizzata pubblicata con intervento manuale pazzesco di Mario Schifano, siamo a 6.500 euro. Amici, cosa state combinando? Amici, cosa state combinando? Entra in gara Finzi a 900 euro. Quale, scusami? Il Finzi entra in gara a 900 euro quella, io la trovo un'opera superba. Queste sono veramente quotazioni pazzesche, quotazioni irreali. 900 euro, attenzione, è vostro quel dipinto di Finzi. Quell'olio su tela di Ennio Finzi, il continuatore della grande tradizione veneziana del dopoguerra, del ventesimo secolo, attenzione a 900 euro, è vostra quell'opera pazzesca di Ennio Finzi. 900 euro per Ennio Finzi. Io lo assegno ma chiedo scusa al maestro, lo assegno ma chiedo letteralmente scusa al maestro. Ma vi rendete conto? È un olio su tela di Ennio Finzi e me lo fate assegnare a 900 euro. Federico, me lo fanno assegnare a 900 euro. Schiaffoni? Maria, nel gran finale ci sono le opportunità più ghiotte per gli investitori, per i rivenditori. Veramente a 900 euro perdere un'opera di Finzi di quel livello è immorale. 900 euro per la prima... È vostro, è vostro. Il quadro è assegnato, è venduto. Mille. Mille euro. Mille euro. Mille euro per quell'opera preziosa di Ennio Finzi. Mille euro per la prima. Mille euro per la seconda. Guardate, è follia, è follia pura. Mille euro per la prima. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Mi chiedono tempo al centralino. Mille euro. Mille euro. Mille due. Mille due. Quindi aspetto la replica. Mille due per la prima. Olio su tela. Ottanta per ottanta di Ennio Finzi. Mille due per la prima. Mille due per la seconda. Mille due. Lo assegno a Mille due. Lo assegno a Mille due? No. Ci sono ancora telefonate in corso. Sì. Mille due. Mille due. Mille due. Mille due. Mille due. Ha segnato il Finzi a mille e duecento euro. Vi voglio assegnare, perché è una delizia, quell'opera di Alfredo Rapetti Mogol Quando andate alle mostre di Alfredo Rapetti Mogol e vedete Mogol, vedete tutto il mondo che circonda Alfredo Rapetti Un'opera così la pagate 4 mila euro, 5 mila euro Noi siamo a 400 euro, a 400 euro, a 400 euro Chi mi offre 500? Dai! Alfredo Rapetti Mogol, opera preziosa Sono le mitiche composizioni sacre e calligrafiche di Alfredo Rapetti Mogol 400 euro per la prima, 400 euro per la seconda Poi, scusatemi, quando mai più nella storia del mercato troverete la possibilità di comprare un'opera del genere di Alfredo? 500 euro 500 euro per la prima 500 euro per la seconda 500 euro L'assegno? L'assegno? L'opera di Alfredo Rapetti Mogol che poi mi uccide a 500 euro L'assegno? Guardate, io l'assegno Poi non venitemi a chiedere opere di questo artista a prezzi del genere 600 euro 600 euro 600 euro E do un minimo di tempo per la replica 600 euro per la prima 600 euro per la seconda 600 euro 600 euro 600 euro 600 euro per la prima 9 euro per la seconda Questa è pittura divina. Queste sono opere di Sciacca che valgono 8.000, 9.000, 10.000 euro. L'ultima offerta è 800 euro. Sono arrivati 700 per apetti ma fuori tempo massimo. 800 euro. Olio su tela un metro per un metro. 800 euro per la prima. Ma chiamate subito, ma chiamate immediatamente. Queste sono opportunità che non si ripetono. 800 euro per la prima. 8, 8, 8, 8. 1000 euro per Sciacca. 1000 euro per quella splendida opera di Antonio Sciacca. 1000 euro per la prima, 1000 euro per la seconda. Dai amici, fare 1200, 1400, 1600, 1800, fino a 4000, 5000 euro è un regalo. 1000 euro per la prima, 1000 euro per la seconda. Io vi condannerei a dipingere un'opera del genere per 3000, 4000 euro. quello è un'opera del genere. Quello è un mese di lavoro. Quello è un mese di lavoro. 1200 per la prima, 1200 per la seconda, 1200 euro. lo assegno, lo assegno, non mi sento male, assegnare un'opera di Sciacca di questo livello a 1200 euro è letteralmente... 1004 è letteralmente immorale, è letteralmente immorale, è letteralmente immorale. 1.400 per la prima, 1.400 per la seconda, 1.400 euro, assegno l'opera di Sciacca a 1.400 euro assegnata. Via. Complimenti, complimenti, complimenti. Allora, assegnato il Finzi, assegnato il Rapetti, assegnato lo Sciacca, sono rimaste quattro opere ma straordinarie. è rimasto il grande pizzicannella del 1985, seconda offerta, mi manca la terza offerta, mi manca la terza offerta per entrare in gara, 20.000 euro, seconda offerta. Qui non so che state facendo, è una follia, quadro da 25.000 euro, Mario Schifano da fantascienza, e vi ho detto cosa significano queste opere, pubblicata un metro per un metro e quaranta, 6.500, seconda offerta, mi manca la terza offerta. E poi la mitica ceramica di Leoncillo, che vi ho detto, andate a fare riferimento alle aste di Sotepis o di Cristis, perché una ceramica di mezzo metro di Leoncillo del 1954, meno di 40-45.000 euro non si vende da anni, siamo in seconda offerta a 17.000, siamo in seconda offerta, mi manca la terza offerta per entrare in gara, a 17.000. E poi c'è la stupenda opera di Li Wei, che aspetta le vostre offerte, ed è un'opera 80 per 120, e sapete perfettamente cosa significa Li Wei oggi sul mercato. Precipitatevi, ho ancora 25 minuti di tempo, quindi approfittate di questo tempo per entrare in gara. Ditemi dove entriamo in gara? Attenzione, gli ultimi 8 minuti non faccio gare, la terza offerta piazzata all'ultimo minuto non vale, quindi, perché lo so, avete lasciato tutte opere importanti, e c'è qualcuno furbo che pensa, quando mancano 20 secondi faccio la terza offerta e tanti saluti, non è così, negli ultimi 8 minuti, 10 minuti la terza offerta non l'accetto, non è così. Non pensate che le furbizie, amici miei, io ho cominciato questo lavoro quando avevo 16 anni, se voi pensate di essere più furbi, non è così, perché se sul leoncillo mi fate 18 mila in chiusura e non ho più il tempo per la replica, se per il pizzicannella mi fate 22 in chiusura, o per lo schifano 7 mila in chiusura, io non l'accetto. Io non l'accetto, adesso che ho ancora il tempo per la gara, accetto la terza offerta, ma quando sono in chiusura la terza offerta non l'accetto. E poi Gabriele ha fatto un capolavoro, vi faccio vedere una cosa, non voglio dire unica al mondo, perché unico al mondo è sempre un'esagerazione, ma vi faccio vedere una cosa che per un collezionista è un qualcosa di mitico, è un qualcosa di strepitoso. Guarda che meraviglia. Una delle opere più rare, una delle opere più emozionanti, una delle opere più clamorose di quel mito che si chiama Marchegiani. Un intonaco degli anni 70 con questo diamante, questa pietra preziosa inserita nell'oro, ma è follia. Voi lo dovete vedere dal vero, è qualcosa di entusiasmante. Già io ho sempre amato le opere di Elio Marchegiani, ma un'opera del genere, 70 per 70, questo cristallo con queste grammature in oro a 24 carati, è qualcosa di incredibile. Poi televisivamente non vedete bene proprio tutto il lavoro, tutto il rilievo, proprio la percezione dell'intonaco. Quanto vale un'opera di Marchegiani di questo livello, 70 per 70? Vale qualsiasi cifra. Quanto chiedevi, Gabriele, in trasmissione? In Italia 18. Sì, intorno ai 20 mila euro. Sì. Intorno ai 20 mila euro. Bene, voglio sentire da voi cosa mi proponete per un'opera di Elio Marchegiani di questo livello. Vi devo dire la verità, un'opera di Marchegiani, ma un'opera di tutta la pittura analitica così rappresentativa, l'ho vista poche volte, opera preziosa di Elio Marchegiani. È una new entry sulla quale vi esorto a entrare in sintonia. Allora, attenzione perché i minuti passano, poi non posso accettare le terze offerte. Attenzione perché passano i minuti e non posso poi accettare le terze offerte. Cosa entra in gara, Gabriele? Cominciano le proposte per Marchegiani? Quanto? 9 mila prima proposta. Allora, prima proposta per l'opera di Elio Marchegiani, 9 mila euro. Falla vedere proprio nei particolari perché è qualcosa di strepitoso. Prima proposta per Marchegiani, 9 mila euro. 9 mila euro. 9 mila euro per quell'opera preziosa. Per quell'opera straordinaria di Elio Marchegiani. Dai amici, via, velocissimi perché perdete delle opportunità storiche. perché perdete delle opportunità epocali. Allora, velocissima rassegna. 9 mila euro per il Marchegiani. Siamo in attesa delle vostre offerte per l'opera di Lee Wei. Leoncillo Leonardi. Leoncillo Leonardi, la ceramica è ferma a 18 mila euro in seconda offerta. l'opera di Schifano, un metro per un metro e quaranta, la tela computerizzata, pubblicata e ritoccata a mano, è in seconda offerta scandalosamente ferma a 6 mila e cinquecento euro. Io vado a memoria, quindi se sbaglio qualcosa, ditemelo, eh. 6 mila e cinquecento euro per l'opera di Schifano. E poi c'è il pizzigannella da sogno, un metro e novanta per un metro e trenta del 1985, olio su tela, 20 mila euro. 10 mila per Marchegiani. 10 mila, seconda offerta per l'opera preziosa di Elio Marchegiani. 10 mila, seconda offerta. Guardate che ho ancora 10 minuti per accettare le terze offerte, eh. Perché poi non ho il tempo per fare la gara, quindi nel finale non posso accettare le terze offerte. Ma l'Elio Marchegiani a 10 mila euro non lo vogliamo fare entrare in gara? E che venderlo a 20 e regalarlo? Che venderlo a 20 e regalarlo? Siamo a 10 mila euro, seconda offerta per quell'opera storica di Marchegiani. Ingiustificabile il fatto che lo Schifano sia fermo a 6.500, tocca a voi. Poi, indubbiamente, chi conosce il mercato internazionale sa che l'opera di Leoncillo vale cifre totalmente diverse. Sa che l'opera di Leoncillo costa vale cifre completamente differenti. Certo, allora, l'opera di Lee Wei, la rivediamo? 1.600 per l'opera di Lee Wei, 1.600 per l'opera di Lee Wei. che è strepitosa, è una delle performance più famose. 1.800. 1.800. 1.800. L'opera è vostra, 1.800. 1.800. 1.800 per la prima? No, un attimo, ci dobbiamo. No, no, aspetto, 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 aspetto. È un'opera da 5.000, 6.000 euro. È un'opera da 5.000, 6.000 euro. 1.800 per la prima? 1.800. No, amici, una volta assegnato non c'è più nulla da fare. Io vedo quello che succede al centralino, che per molte opere assegnate, poi mi fate offerte superiori, ma naturalmente una volta assegnata l'opera non possiamo accettare offerte superiori. Quando dico assegnata, aggiudicata, non c'è più nulla da fare. Allora, il Lee Wei ha 1.800 euro. 2.000. 2.000. 2.000. Tempo per la replica. Un attimo di tempo per la replica a 2.000 euro. A 2.000 euro per la prima? Amici, questo è un artista formidabile. queste performance che poi diventano immagini, questo volo su Venezia è un qualcosa di straordinario. Siamo a 2.000 euro, 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda, 2.000 euro, 2 e 2. Un attimo, scusatemi, il 2 e 2 è da confermare, il 2 e 2 è un nuovo cliente quindi da confermare. Un attimo, un attimo, un attimo, sì 2 e 2, 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda, lo assegniamo? 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4 per l'opera di Lee Wei? No, guardate, si può definire, sono introvabili, sono introvabili. L'opera di Lee Wei ha una tiratura di 10 esemplari nel mondo, sono 10 esemplari nel mondo, quindi praticamente introvabile. Amici, 2 e 4, chiedo scusa, 2 e 4 per la prima, 2 e 4 per la seconda, a 2.400 euro, assegnata a 2.400 euro. Io credo che state commettendo degli errori fondamentali sul Leoncillo, sul Marcheggiani, sullo Schipano non ne parliamo, sullo Schipano non ne parliamo, poi a me piace da morire, per me Pizzigannella è uno degli artisti più importanti che abbiamo in Italia e nel mondo. L'ultima opera che può entrare in gara, perché ormai mancano 10 minuti alla fine, quindi posso accettare la terza offerta, dato che le opere rimaste sono tutte importanti, posso accettare la terza offerta proprio in questo momento. Dunque abbiamo il Marcheggiani a 10.000, o a 11, quant'è? A 10. Abbiamo il Marcheggiani a 10, il Pizzigannella a 20, il Pizzigannella a 22, lo Schipano a 6.500, il Leoncillo a 18. Il Leoncillo a 18.000. Quale opera entra in gara? L'opera entra in gara e quindi di conseguenza che non ci sarà morto, perché l'opera di un signo da lei ha 100.000 euro, C'è il Marcheggiani che è un sogno, c'è il Marcheggiani che è letteralmente un sogno. Poi a me piace da morire lo Schifano, poi sapete l'amore che ho sempre avuto e l'amore che nutro per le opere di Mario Schifano? E quell'opera di Mario Schifano è da fantascienza. Guardate che non accetto la terza offerta negli ultimi minuti di gara. Negli ultimi minuti devo avere il tempo per sviluppare una gara e ormai mancano pochi minuti alla fine della trasmissione. Quindi ditemi, 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 ditemi su quale opera vogliamo entrare in gara. Ci sono quattro opere da sogno a vostra disposizione. Ci sono quattro opere straordinarie a vostra disposizione. Entra in gara il Pizzi Cannella, 24. Amici miei, complimenti, 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 complimenti. Questo è un quadro da 50.000 euro. E non possiamo più entrare in gara per altre opere perché manca purtroppo poco tempo. In caso in trattativa privata. Questa è l'ultima opera che è entrata in gara. Ormai per le altre il tempo abbiamo sette minuti. Siamo a 24. 24.000 per una delle opere più rare, una delle opere più importanti, una delle opere fondamentali di Piero Pizzi Cannella. Sapete perfettamente quello che vale un'opera del genere. È di una qualità e provoca delle emozioni totali. Andate a chiedere a Pizzi Cannella oggi un'opera così e sentite cosa vi chiede. Ma cosa vi chiede l'artista? 24.000 euro per l'opera da sogno di Piero Pizzi Cannella. Che naturalmente ci resterà malissimo perché la considererà un'aggiudicazione addirittura provocatoria. 24.000 euro per la prima. Chi ha fatto le offerte precedenti non si deve fermare per nessun motivo al mondo. Chi ha fatto i 20.000, i 22, non si deve fermare per nessun motivo al mondo. Vi sembra possibile assegnare un'opera del genere a 24.000 euro? Andate a vedere in tutte le aste d'Italia e del mondo non è mai accaduto che un'opera di Piero Pizzi Cannella di questo livello sia stata assegnata a un prezzo del genere. Oggi le cartine di Pizzi Cannella, 70%, fanno 10.000 euro, 12.000 euro. Le carte di Piero Pizzi Cannella, 70%, oggi fanno 10.000, 12.000 euro in tutte le aste. Un'opera del genere a 24.000 euro, un'opera di questo livello a 24.000 euro, un'opera di questa importanza a 24.000 euro? Devo assegnare? Devo assegnare? Ma veramente state buttando via? Io lo dico a chi ha fatto le offerte precedenti, può intervenire chiunque, perché a questo prezzo qualsiasi mercante, qualsiasi rivenditore, qualsiasi collezionista sa che l'opera la stiamo regalando. Ma chi ha fatto le offerte precedenti e non replica a questo livello, a questo prezzo, commette un errore catastrofico. 24.000 per la prima, 24.000 per la seconda. Gabriele, assegno a 24.000? No, è iper regalata. Queste sono le opere che comprano i mercanti, che comprano i rivenditori, queste sono le opere da sogno. 24.000 per la prima, 24.000 24.000 per la seconda. 24.000. Guardate che una volta assegnata un'opera del genere di pizzigannella, non la ritroverete mai più. Non la ritroverete mai più. 24.000. 24.000? Assegnata. E tra l'altro assegnata in trattativa privata anche l'opera di Schifano. complimenti, 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 complimenti. C'è il Marcheggiani a 10.000 euro. C'è quell'opera di Marcheggiani a 10.000 euro. Bene amici, è stata una mattinata particolare, è stata una mattinata straordinaria. Faccio i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato perché vi siete aggiudicati delle opere fantastiche, letteralmente superiori e a condizioni di prezzo inaudite. Completate l'opera con il Marcheggiani, date retta a me, chiamate in questo momento e bloccate anche quell'opera di Marcheggiani. E poi continuate a seguirci perché, se non sbaglio, Federico, oggi alle 17 ci sarò ancora o io o Gabriele. Uno dei due. Venga, dottor Barassi, ma guardi che lei col puvelerino e il fular è meraviglioso. Ma guarda quanto a pance facciamo concorrenza. È una questione d'età. Questa sera c'è Giorgio con la sua trasmissione che ormai è diventata una trasmissione cult. Giorgio, ormai, figurati, ormai la tua trasmissione è diventata proprio... È come il Festival di Sanremo. Non è meglio. È meglio. Che non ci vuole molto essere meglio, questo è mai provocato. Mi raccomando, mercoledì, siccome io sto organizzando un autobus dal sud, tutti quanti al Mondatore Media Store di Milano c'è la presentazione del libro di Franco. Ciao. 18 e 30. Ciao Franco. Amici, grazie, con tutto il cuore, alla prossima. Amici, grazie. Grazie a tutti.